E' la nuova frontiera del pod control, la limp strategy, se utilizzata sagacemente, può essere messa in atto sia deep stack che short stack, specialmente in multiway. Emiliano Conti ci ha dato qualche dritta su come, quando e perché utilizzarla online. Limp è una strategia che tendenzialmente sta lentamente entrando anche nel gioco degli mttonline.it, ma io so che già nel .com diversi top reg la utilizzano e exploitano il field, potendo open limpare anche early position, short stack, con dei range variabili, ed è una move che dà dei vantaggi a chi sa mixarla, utilizzarla bene. Sul .it non si vede onestamente poi così tanto, anche se sicuramente potrebbe essere una variabile da esplorare. Parlo dell'open limp, per quanto riguarda l'over limp è un qualcosa che già si fa, soprattutto in situazioni in cui ci sono stati dei limp a catena, quindi magari da terzo o quarto si overlimp, ok? Io personalmente quando c'è un limp singolo preferisco sempre andare a isolare il limper con tutto il range, che potrei anche overlimpare per motivi di, diciamo, EV nel giocare risato rispetto ad aggresso rispetto all'impato. Però il fatto di poter open limpare maniche e non potremmo risare a un determinato stack, short, è un qualcosa che onestamente potrebbe e dovrebbe essere esplorato, in quanto so che è una cosa che diversi top reg sul .com già fanno, uno in particolare dovrebbe essere Ush UTM, Thomas Mulhocker, quello che mi hanno detto, è una strategia che già utilizza in maniera straprofittevole. Grazie a tutti.